E benvenuti, siamo qui a Radio Sherwood, allo Sherwood Festival con Icornia, che sono venuti a trovarci questa sera per la prima volta, abbiamo Nicola Mel, chitarra, Seba, al basso, e Andrea Greggio invece del batterista, giusto? E niente, come vi siete trovati questa prima volta a Sherwood sul palco, insomma? Wow! È abbastanza adrenalinica come cosa, soprattutto perché dopo due anni di fermo per il Covid, iniziare con Sherwood non è proprio... È fighissimo, è una bella emozione, c'è un sacco di gente. Sì, bellissime persone, bella atmosfera, non potevamo chiedere di meglio, veramente. E cogliamo l'occasione per ringraziare veramente gli organizzatori del festival, che immagino quanto si siano dovuti sbattere con tutti i casini, limitazioni, coprifuoco, eccetera. Veramente grazie, bravissimi. Grazie a voi di essere venuti. Tra l'altro ricordiamo che questa intervista sarà online sul podcast di Radio Sherwood e andrà in onda anche su sherwood.it barra streaming, oltre che sui social di Radio Sherwood. Parliamo un po' della vostra storia, come nascete sostanzialmente, no? Mi sembra che le vostre radici provengano da Gli All of Minerva per quanto riguarda Nicola. Certo, All of Minerva, Dotsauer, Brun Le Ba, Vicenza. Nasciamo nel 2015 e dopo non poche disavventure... Ah, ok, sono abituato. Dopo non poche disavventure con la line-up e con la registrazione del disco, siamo riusciti a buttare fuori lo stesso il disco durante la pandemia. È stata una scelta che abbiamo fatto, diciamo, un po'... All'inizio era sofferta, però dopo secondo noi è stata una bella cosa farlo durante la pandemia. Perché è stato come una sorta di bambino che scalciava per uscire ormai da parecchio tempo questo disco a parte. E niente, è stato come una sorta di dono che abbiamo voluto fare sia a noi stessi ma anche al pubblico per scappare, no? Un po', dato che la musica è abbastanza tripposa. Sì, è stato anche un album che, diciamo, era già nato in parte prima dell'arrivo di Seba nella band. Quindi avete un po' dovuto, non so se riarrangiare o... Sì, 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 abbiamo riarrangiato i pezzi per essere un trio. Abbiamo aggiunto basi e riarrangiato tutto. Ci abbiamo messo quasi un anno, anzi direi proprio un anno pieno. E eccoci qua. Ok. Voi venite etichettati sostanzialmente come band post-rock, semplicemente anche per il fatto che vi manca una linea vocale, di solito. Però le vostre influenze sono anche altre, insomma, nella vostra musica. Sì, sì, assolutamente. Ma sì, noi siamo post-rock... Rock è un po' un termine limitante, no? Ci piace veramente tanta musica dal post-rock al post-metal, al doom, all'alternative metal, alternative rock, showgaze. Cerchiamo un po' di mescolare le cose che ci piacciono a noi. È molto semplice, non è che facciamo tanti giri di pensiero su queste cose. Non abbiamo una voce, però non è scontato che nel prossimo disco ci sia qualche linea vocale, perché comunque sentiamo il bisogno anche di comunicare tramite quello strumento lì, insomma. C'è da aperti, insomma, a future sperimentazioni. Whatever. C'è da aperti. Ok. Beh, se vogliamo domandare a ognuno di voi, forse le tre band che hanno influenzato di più, forse, quello che siete adesso o quello che fate? Cioè, nel senso, per la musica che suoniamo nei corner... Quali sono le band che vi hanno più, diciamo, marchiato, insomma? Beh, a me band tipo Deftones, Isis, Smashing Pumpkins, ecco, queste. Sì, sì, beh, siamo lì. The Cure, Smashing Pumpkins, Catatonia, Deftones, Nine Inch Nails, Aperfect Circle. Andiamo avanti per tre anni. Ci troviamo d'accordo. Sì, sì, ma se no domande sempre un po' strane. Aperte. Un po', esatto. Aperto. Beh, io direi Ion Fire, anche se sono così, con un genere che non è molto tangenziale, con il nostro, però così come ispirazione. E va bene, tutto il mondo del post-metal, dai Rosetta, agli Isis, che ha citato Andre, Calto Fluna, e anche il Doom, da partire dalle Sabbat, voglio dire, dalle origini. Sì, non si possono non citare i Sabbat. Da dove partiamo, da dove nasciamo tutti noi, figli di Ionmi. e ha il Doom più moderno, più più grosso, più ciccione, diciamo, più ancora più catacombale, più lento, più tutto. Ho capito. Tra l'altro vogliamo ricordare che l'artwork di Aperth è stato disegnato sempre da Nicola, che è un bravissimo illustratore e fa di quelle cose assurde e che se vuoi ricordare come si chiama la tua pagina dove... A Spring of Murder. A Spring of Murder, ok. Dove si possono trovare tutte le tue creazioni molto fighe. Complimenti. Grazie. A me no, per quanto... E se vogliamo parlare di live futuri, avete qualche progetto? Il 10, cioè la settimana prossima, saremo al Grindhouse di Padova. E per adesso questa è l'unica data che abbiamo. Ok. E c'è anche in... Diciamo, state già studiando a un futuro disco o c'è già qualche pezzo in lavorazione? C'è, c'è. C'è tanto materiale. Tra l'altro del materiale che volevamo anche riportare questa sera, però non ce la siamo tanto sentita perché era un po' un po' stretta la cosa. Era tanto materiale. È solo tanto materiale. Un po' troppo materiale. Delle canzoni nuove le abbiamo portate rispetto a quello che c'è nel disco di Apart. Alcune no, ma va bene, insomma, c'è tempo. C'è tempo per far tutto. C'è qualche storia, qualche aneddoto da raccontare dietro questo pezzo? o no? Questo è stato il primo pezzo che ho scritto. Cioè, il primo riff che ho buttato giù per i cornea. In assoluto 2014, probabilmente. Ed è veramente tanto vecchia, ma riteniamo che sia uno dei brani più belli che abbiamo. Questo è l'aneddoto. Ok. Quindi è stato un pezzo che ha maturato negli anni e si è evoluto fino ad arrivare quello che insomma e adesso. Esatto, sì, poi abbiamo continuato a lavorarci, ovviamente. Ok. Cosa ne pensate di questo ritorno di Sherwood dopo un anno di fermo? Cioè, cosa rappresenta per voi Sherwood adesso? Sherwood rappresenta per me l'indipendenza. È molto bello che quest'anno ci siano tantissime band locali e emergenti. È una cosa di cui c'era bisogno secondo me. C'è bisogno di un posto così che faccia arrivare tanta gente e che proponga cose sconosciute insomma alla maggior parte delle persone. È una cosa ha una forza molto grande questo festival a Padova. È molto bello che un luogo come questo che ha molta visibilità dia spazio a band come la nostra e a tante altre. che sono più o meno diciamo a questo livello. È veramente molto bello. Bene, direi che vi ringraziamo di essere stati qui. Grazie a voi. Grazie a voi. Veramente. Del tempo che ci avete dedicato salutiamo tutti gli ascoltatori sia online che qui presenti e niente ci auguriamo di avervi magari in un'altra edizione in futuro. Quando volete noi ci siamo. Assolutamente. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao, ciao.